Con Viva la Pappa, gli oggetti di uso quotidiano scoprono nuova gioia e bellezza. Una linea di prodotti pensata per le tue esigenze, che unisce personalità e sostanza, design e tecnologia, nel segno della costante ricerca brevi. Progettata in collaborazione con medici, pediatri e nutrizionisti, Viva la Pappa è un nuovo modo di vivere lo svezzamento del tuo bambino. Quanti vantaggi nella cottura a vapore? E quanto è semplice preparare la pappa per il tuo bambino con il nuovo robot multifunzione Viva la Pappa Brevi? Semplice perché è tutto pronto in pochi gesti. Rispetto a un cuoci pappa tradizionale, basta la metà delle operazioni per preparare un omogenizzato. Un'idea della sua straordinaria semplicità d'uso? Vediamola all'opera. L'acqua va inserita direttamente nel recipiente di cottura, così tutto è più semplice e comodo da pulire. In pochi gesti è tutto pronto per la cottura, che avviene direttamente nella caldaia. Il vapore diretto garantisce massima igiene ed efficienza. Recipiente di cottura e mixer sono separati e puoi usarli in modo indipendente. Tutto molto pratico e anche più sicuro. Il mixer ha il gruppo lame già incorporato. Per omogenizzare la pappa, basta premere leggermente il mixer per qualche secondo. La pappa è pronta. Non resta che servirla nel piattino. Con il nuovo cuoci pappa brevi, bastano pochi semplici gesti per preparare un omogenizzato. Tutto pronto in modo semplice, pratico e veloce.